146 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo su 2877 test processati nelle ultime 24 ore. Non vi sono ulteriori decessi, il bilancio delle vittime resta fermo a 488. I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra i 3 e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Mentre del totale dei casi di oggi, 46 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 37 a quella di Chieti, 17 a quella di Pescara e 40 a quella di Teramo. Attualmente in Abruzzo vi sono 1.679 positivi accertati, 146 pazienti più 9 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15 più 4 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.518 più 134 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare e con sorveglianza attiva da parte delle ASL, a comunicarlo e l'assessorato regionale alla sanità.